ciao amici benvenuti sul mio canale sono di nuovo qui con un bellissimo video perché il famoso nome del cinema engine a cure che sua moglie tag babu yukustun hanno attirato grande attenzione da parte dei loro fan dopo essersi trasferiti a parigi la capitale della francia la coppia che è stata vista di recente nelle famose strade di parigi è stata accolta con un caloroso benvenuto e l'amore dei loro fan parigini ecco i dettagli di quei momenti indimenticabili dell'avventura parigina di engine a cure che tag babu yukustun la coppia formata da engine a cure che tag babu yukustun ha avuto una sorpresa inaspettata mentre passeggiava per le famose strade di parigi un intenso fan parigino di hobby.com ha accolto la coppia con segni d'amore non appena li hanno visti i fan hanno accolto la coppia con fiori e striscioni e hanno espresso la loro felicità di ospitarli a parigi la coppia engine a cure che tag babu yukustun ha comunicato calorosamente con i loro fan a parigi organizzato servizi fotografici e sessioni di autografi la coppia si è presa cura dei propri fan uno ad uno ha scattato foto ricordo e firmato autografi senza mancare alle loro richieste i fan parigini hanno mostrato ancora una volta il loro amore e sostegno alla coppia in questo incontro significativo dopo che engine a cure che tag babu yukustun si trasferirono a parigi divennero il centro dell'attenzione dei media francesi la famosa coppia apparve sulle copertine delle principali riviste parigine rilasciò numerose interviste e parlò delle loro avventure parigine la stampa francese segue con interesse il processo di adattamento della coppia a parigi e trasmette questi momenti indimenticabili agli occhi dei suoi fan penso che i mezzi di trasporto siano due e questo incontro indimenticabile di tag babu yukustun a parigi ha creato un grande impatto sui social media i fan hanno seguito l'avventura parigina della coppia e hanno mostrato il loro sostegno con migliaia di like e commenti inoltre i fan che hanno condiviso questi momenti speciali della coppia hanno avuto l'opportunità di assistere da vicino alla vita della famosa coppia trasferitasi a parigi engine a cure che tag babu yukustun hanno iniziato in modo indimenticabile con il caloroso incontro della coppia con i loro fan a parigi ha immortalato questi momenti speciali incontrando i suoi fan con il suo amore mentre entrava nell'atmosfera romantica di parigi ha condiviso che questo incontro ha avvicinato ancora di più i fan della coppia ed ha emozionato coloro che aspettavano con impazienza la nuova avventura della cure tag babu yukustun in francia grazie grazie